ciao bentornate bentornati oggi parliamo del funzionamento della caffettiera moca e ho scelto questo argomento perché la spiegazione più semplice e più intuitiva sul suo funzionamento non è quella corretta infatti la convinzione più comune è che l'acqua vada in ebollizione quindi passi allo stato di vapore e il vapore spontaneamente va verso l'alto quindi va in contatto col caffè poi torna liquida ed esce nella parte superiore però se ci riflettiamo meglio questa non può essere la risposta corretta e per due motivi anzitutto questo tubicino che va fino sul fondo della caffettiera non servirebbe a nulla perché il vapore va spontaneamente verso l'alto non ha bisogno di un tubo e seconda cosa ancora più significativa è che anche tenendo la fiamma bassa in genere il caffè sale in pochi minuti invece potete verificare che per far evaporare la stessa quantità d'acqua con una fiamma bassa serve molto molto più tempo ma allora vediamo qual è la spiegazione corretta allora mettendo la caffettiera sul fuoco o su una piastra calda forniamo calore e quindi l'acqua inizia a scaldarsi l'acqua scaldandosi scalda anche l'aria che è compresa tra l'acqua e il caffè l'aria è un gas e che cosa succede quando si scalda un gas se ha la possibilità di espandersi lo fa ma se è in un contenitore rigido come una caffettiera e non riesce a espandersi aumenta la pressione questo aumento di pressione fa sì che l'acqua venga spinta verso il basso con una pressione superiore alla pressione atmosferica che c'è all'inizio e dato che l'acqua incomprimibile se si abbassa da una parte deve salire da un'altra parte e non può far altro che salire lungo il tubo voi pensate che se la pressione aumentasse di un'atmosfera l'acqua potrebbe salire fino a un'altezza di 10 metri e così via se la pressione aumentasse di mezza atmosfera potrebbe salire a 5 metri ora questo tubicino è alto pochi centimetri quindi è chiaro che basta un piccolo aumento percentuale di pressione affinché l'acqua trovi la forza di salire lungo il tubo questo in fondo è un esperimento abbastanza simile a quello condotto da torricelli per misurare la pressione atmosferica è solo che torricelli aveva tolto l'aria dentro il tubo noi invece aumentiamo la pressione all'esterno ma non cambia molto c'è sempre una differenza di pressione tra l'esterno del tubo e l'interno grazie a tutti